Io penso che tutti i ragazzi abbiano dato il 110% oggi, quindi non è che ci sia stato qualcuno sottotono. Io penso che ci sia stato il massimo impegno da parte di tutti. Se si pensa, e lo dibattisco, che le vittorie si inventano dall'oggi al domani, soprattutto in competizioni così importanti. Si è distante anni luce dalla realtà, la realtà è questa. Oggi c'era una situazione, una partita, una qualificazione che era quasi irreale, c'era il quasi perché mancavano i 90-95 minuti. Adesso è diventata totalmente irreale perché il Bayern si è dimostrato più forte e quindi facciamo i complimenti alla Bayern Monaco. Grazie.